importante successo del Taranto che supera per 3 a 2 il Monterosi, tre punti che fanno morale e classifica il Taranto è 3-5-2-4-3-3 per il Monterosi, Taranto che passa in vantaggio subito al minuto 7 c'è un sinistro da parte di Panico, Mastrantonio devia il pallone sul palo, il tappin vincente, quello di Fabbro per l'1-0 il pari del Monterosi arriva poco dopo, dopo soltanto 3 minuti di gioco su calcio di punizione da parte di Siripo dalla sinistra colpo di testa da parte di Palazzino per l'1-1 a tredicesimo Frediani da posizione ravvicinata Valnucchi allontana con i piedi il Taranto si va a vedere al ventottesimo cross di Panico, Cianci di testa, pallone fuori trentacinquesimo Fiorani da limite, pallone fuori misura il Monterosi prova a passare in vantaggio con un contropiede Siripo Costantino, quest'ultimo però viene murato da Enrici l'accelerata però sul finale di primo tempo da parte del Taranto, quarantaduesimo Calvano dal limite, deviazione dell'estremo difensore del Monterosi in calcio d'angolo battuto da Zonta, colpo di testa di Antoni lasciato troppo solo e 2-1 con cui si va all'intervallo risposta al minuto 60 del Monterosi, Siripo Centrale, Vannucchi blocca il Taranto trova il Tris con Canute al minuto 66 dalla destra, diagonale vincente Mastrantonio non può far nulla, ma al settantatresimo arriva il gol del Monterosi che vede parlati protagonista, sfrutta un pallone vagante al limite dell'area di rigore il Taranto prova a mettere nuovamente il doppio vantaggio, prima con un controbalzo di Cianci al minuto 75 bloccato da Mastrantonio e all'ottantottesimo invece Canute viene anticipato al momento della conclusione, finisce 3-2 della prima vittoria esterna del Taranto in stagione Grazie 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 Grazie